ci sono tante tante cose che possono andare insieme senza sapere quale sarà il risultato ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova abitare il mondo intero non frammenti separati del mondo ciascuno di noi è il centro del mondo senza essere un io il mondo non è diventa si muove cambia non ho nessuna idea di come tutto questo avviene qualsiasi cosa causa ogni altra cosa non crediamo nella natura umana ci sono due modi di scendere dalla montagna le circostanze determinano i nostri atti l'altro modo è scivolare giù dopo aver raggiunto la cima